I comitati per il no non cesseranno la loro attività dopo il voto referendario e questo è un auspicio del fronte che mette insieme diverse anime della sinistra che si sono schierati a Salerno contro la riforma della carta costituzionale portata avanti dal governo. L'intenzione è quella di mantenere aperti i comitati per supportare i partiti e le forze della sinistra in vista delle prossime scadenze elettorali e non solo. Per quanto riguarda i comitati nati nel nostro paese e nella nostra provincia a Salerno noi vorremmo tenerli in piedi per essere un punto di riferimento, un pungolo, un sostegno, un'azione di stimolo alle forze che intendono continuare a lavorare per trasformare il nostro paese con tutti quelli che ci stanno, in particolare con quelli che rifiutano il partito della nazione. Commentando il voto saternitano poi Argentino che ha incontrato la stampa con gli altri esporenti che si sono mobilitati nei comitati per il no a sinistra ha voluto chiarire l'aspetto relativo al valore politico o meno del voto in Campania e a Salerno. Non personalizziamo, il problema non è De Luca, non è Renzi, non è Canfora, non sono quelli che hanno esercitato un'azione di governo nei nostri paesi e nelle nostre città, il problema è avere linee politiche che intercettino il malessere che si è espresso con questo referendum. Da questo punto di vista sicuramente questo è stato un voto politico, nel senso che noi abbiamo avuto, diciamo così, giovani, c'è tutta la fascia di età dai 55 anni in sotto ha dato un risultato straordinario, 70-80% al referendum. Questo è un segnale che va raccolto. Sulla questione elezioni inoltre il comitato per il no ha ribadito l'esigenza di modificare quanto prima la legge elettorale prima di andare a votare. Sicuramente sappiamo che non si può andare a votare con l'Italicum, non si può andare a votare con un sistema elettorale che confronta fra Camera e Senato elettorati diversi e quindi avremo sostanzialmente sempre un Senato che voterà contro la Camera se rimane quel privilegio del premio di maggioranza di 340 deputati assolutamente straordinario e assurdo. Il premio è modificare la legge elettorale che ci consenta un'adeguata rappresentanza di tutte le istanze che si muovono nel nostro Paese.